E poi c'era l'Adelina, la Dirce, poi anche la Maria, sì, le donne qui non stavano mica a guardare, no? Oh certo, certo noi cercavamo di tenerle indietro, lo si capisce, perché erano pur sempre delle donne, però loro niente, 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 tutto un andare avanti, andrei avanti, andrei avanti, andrei a portare sassi, a spostar carri, a urlare che i gammiga da niri fascisti a canostra, e ce lo vado a dire a lei, che le donne devono stare in casa, in oltretorrente, invece in casa, oh in casa, non ci stava nessuno in quei giorni.